16 punti nelle prime 6 giornate di campionato, al di là delle più rose aspettative, non c'è dubbio alcuno, solo 5 nelle successive 7. Giusto chiedersi cosa stia accadendo, perché le differenze tra ciò che è stato e il presente sono sicuramente marcate. Il punto di vista di Lorenzo Milani. Le altre squadre adesso hanno capito che devono chiudersi dietro e cercare di ripartire, bisognerà trovare un modo per scardinare questa cosa. Verticalizzare in avanti il prima possibile sicuramente ci aiuterebbe, però meglio tenere il pallone noi che far giocare gli altri e magari prendere 10 tiri in porta. Però diciamo subito, il Pescara non è ultimo in classifica, ma quinto, giusto per sdrammatizzare. Dal punto di vista psicologico quanto vi pesa questo momento? Sicuramente il fatto che non arrivano risultati pesa un po', però siamo una squadra giovane, prima andavamo tanto per entusiasmo, ora ci sta mancando un po' quel guizzo in più. Funziona bene il destro, eh? Sì, alla fine io ho già più di una partita che ci provavo, che comunque sia anche nel cross, ho sempre provato a metterla di destro, non ho mai avuto paura ad utilizzarlo e ha dato i suoi frutti. Un bellissimo gol, soprattutto lo sviluppo dell'azione è stato molto bello, hai giocato diciamo di meno nell'ultimo periodo. Moruzzi sta facendo bene, la concorrenza stimola? No, io alla fine sono qua, mi alleno con professionalità, il mister puoi fare le scelte. Io all'inizio dell'anno quando magari giocavo ho sempre dato il mio apporto in campo, adesso quando mi ha ridato una maglia ho cercato di fare del mio meglio. Diciamo che come scegli da quella parte insomma non sbaglia Zeman, no? Certo, alla fine è un bravissimo ragazzo, Brando, siamo molti amici. Tra l'altro la tua carriera, parlano i numeri, no? Perché circa 120 presenze in Serie C, no? Tra Ponte d'Era e Pescara, avevi già vinto il campionato del Grosseto in Serie D, insomma è stata una palestra anche il campionato di Serie D, vieni dall'Empoli come settore giovanile, come formazione, hai soltanto 22 anni ma sei un under già esperto. Sì, alla fine la scelta di andare in Serie D è stata proprio ponderata per cercare di farmi un po' la gavetta, come si suol dire. Poi ho avuto la fortuna di trovare il direttore Giovannini che mi ha preso e mi ha trattato quasi come un figlio e mi ha fatto crescere tanto. Io a Ponte d'Era ho fatto la mia sporca figura portando anche dei buoni numeri. Ce lo ricordiamo. Portando anche dei buoni numeri e niente, poi l'anno scorso qua ho fatto la mia sporca annata e spero di continuare a giocare con continuità. Il Cesena alla ripresa sabato 25 novembre ore 20.45 si torna a giocare all'Atriatico Giovanni Cornacchia dove il Pescara non vince dallo scorso 2 ottobre. D'altra parte sono una bella armata, noi cercheremo di fare il nostro meglio. Secondo te il Cesena è la squadra più forte? Beh sicuramente è una bella squadra da battere. Ho rivisto un tuo gol al Cesena due anni fa con la maglia del Ponte d'Era, la sponda di Magnaghi, tu ti sei inserito e hai concluso con il sinistro in modo imparabile per Nardi, il portiere del Cesena. Sì, alla fine là giocavo a destra quindi mi veniva meglio a centrarmi e andare a calciare col mio piede buono. Però non ho paura di farlo col destro, mi piace inserirmi, mi piace creare opportunità davanti che sia un assist o che sia un gol, quindi speriamo bene. Quindi ci sei avvisato? Ma alla fine si avvisa un po' tutti, si spera sempre di arrivare la domenica e di fare del mio meglio per la squadra e per le società.